La Federazione Internazionale Pasticceri offre la possibilità ad appassionati e professionisti su tutto il territorio italiano di potersi formare con corsi base e master di pasticceria, gelateria, cioccolateria e cake design con la competenza e professionalità dei docenti riconosciuti dalla federazione stessa. I corsisti potranno usufruire delle moderne tecnologie e apprendere le ricette tradizionali ed innovative della pasticceria classica e moderna. La federazione rilascerà i partecipanti attestato FIPGC del corso svolto. Consulta il sito alla federazione stessa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS